È stato sorpreso nel cuore della notte mentre cedeva una dose di stupefacente a pochi passi da casa. Colto in flagrante per un 25enne di origini albanesi, sono così scattate le manette. È successo a Montevarchi, in Piazza della Repubblica, dove attorno alle 2 di notte i militari stavano svolgendo i consueti servizi di perlustrazione. Ad un certo punto hanno notato un quarantenne originario del Bangladesh, già conosciuto come assuntore di stupefacenti ed insospettiti dalla sua presenza in strada in un orario che era ben oltre il coprifuoco, hanno deciso di seguirlo. Pochi minuti dopo l'uomo si è diretto in Piazza della Repubblica e qui, dall'angolo di una siepie, i carabinieri hanno visto spuntare un giovane. I due si sono avvicinati e non appena i militari hanno visto la consegna di un involucro hanno fatto scattare l'arresto. Il presunto pusher ha anche cercato maldestramente di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato da uno dei militari. Era in possesso di 40 euro, somma ritenuta a provento dello spaccio. L'altro carabiniere nel frattempo ha fermato l'acquirente e lo ha trovato in possesso di una dose di cocaina. Oltre al denaro e allo stupefacente, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro lo smartphone dell'arrestato. Presunto pusher ed acquirente, infine sono stati sanzionati anche per la violazione del coprifuoco previsto dalla normativa anti-covid.